Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come bloccare i cavi motore e metodi migliori per proteggerli dalle eliche. Il metodo più semplice per bloccare i cavi motore è usare una fascetta. Tuttavia può capitare che dopo un crash una pala si pieghi e vada a colpire i cavi, e se questi non sono protetti si possono danneggiare o addirittura tagliare. Il primo metodo per dare un po' di protezione ai cavi è usare del nastro isolante. Questa soluzione però non mi piace molto perchè il nastro tende a scollarsi e quando si stacca lascia sia i cavi che i braccietti tutti appiccicosi. Inoltre il nastro si riempie molto facilmente di polvere e se partite o atterrate nello sterrato diventa un problema. Una variante al nastro isolante è il nastro tesa, ovvero il nastro telato. Questa soluzione è decisamente migliore, sia perchè è molto più resistente ai tagli sia perchè non lascia residui quando la togliamo. Inoltre l'effetto finale è molto più bello da vedere, ed in effetti questa è una delle mie soluzioni preferite. Se non vi piace usare il nastro potete valutare delle protezioni rigide, un metodo molto efficace è crearle in TPU. Se avete una stampante 3D potete fare queste che ho creato io, vi lascio il link a Thingiverse in descrizione. Come vedete la protezione ha una scanalatura per essere fermata al frame con una fascetta. Un'alternativa possono essere queste protezioni in plastica rigida dell'Hiflight, come vedete sotto hanno del biadesivo per fissarle al frame, questo ci garantirà un risultato veramente pulito. Io ho scelto quelle da 65x10mm che sono le più grandi, all'occorrenza comunque si possono anche accorciare. Infatti con una taglierina e un po' di pazienza da una barretta si possono ricavare due proteggifili. Il risultato finale è questo, a mio parere è molto bello. Andando avanti troviamo il RaceWire, soluzione molto apprezzata dai racer. Si tratta di piastrine con un circuito stampato per ogni fase, che andranno a sostituire una porzione del filo in prossimità del braccio. Dopo aver tagliato i fili a misura li risaldiamo su entrambe le estremità. I RaceWire di solito hanno i contatti stampati su entrambi i lati, a tal proposito vi ricordo che il carbonio è un conduttore. Quindi diventa essenziale isolare il RaceWire con del termorestringente per evitare cortocircuiti. Questa soluzione nasce per cambiare velocemente i motori in gara qualora si spezzasse un braccetto, ma ciò non toglie che rimane una buona soluzione nel caso vogliate semplicemente proteggere i fili. Infatti anche se l'elica va a colpire la piastra è molto difficile che riesca a danneggiarla. Una variante dei RaceWire sono i LEDWire. Il funzionamento è identico, solo che questi hanno dei LED che si illuminano quando girano i motori. Se volete dare un po' di colore alle vostre build potete usare questa versione. Ho già avuto modo di recensirli e spiegare bene il funzionamento. Se volete maggiori info sui LEDWire vi lascio il mio tutorial in descrizione. Un altro metodo per salvaguardare i cavi è usare una guaina di protezione. In commercio se ne trovano di varie misure, colori e materiali. Per motori da 5 pollici, quelle da 6mm vanno bene. A questo punto basterà tagliarne una piccola parte a seconda della lunghezza del braccetto. Io vi consiglio di bruciare leggermente le estremità per evitare che si sfilaccino, però non esagerate perchè altrimenti squagliate completamente la guaina. Dopo aver infilato i cavi blocchiamo la guaina con del termorestringente. Anche qui il risultato è molto bello. Prima di concludere vediamo il caso degli ESC singoli. Questo tipo di ESC stanno pian piano scomparendo dal mercato, ma nel caso preferiate usare questi vediamo come proteggerli. C'è da dire che alcuni dei metodi che abbiamo visto prima si possono applicare anche agli ESC singoli. in particolare il nastro telato a mio parere offre una buona protezione. Tuttavia il vecchio metodo dell'elica rimane sempre una buona soluzione, quindi vi consiglio di procedere con questo modo. Una volta tagliata la pala a misura con una tronchesina non ci rimane che applicarla, e qui vi faccio vedere un piccolo trucchetto. Per iniziare togliamo il vecchio termo e recuperiamo l'adesivo. Dopo poggiamo l'etichetta sulla pala e la sistemiamo sopra l'ESC. A questo punto non rimane che rimettere il termorestringente, ovviamente prima di scaldarlo dovete collegare i motori. Ok, come vedete abbiamo fatto un lavoro molto pulito e l'ESC rimane protetto da tutti gli urti. Perfetto, per oggi è tutto. Questo era il mio tutorial su come fissare e proteggere i cavi motore. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi Patrons cliccando il link a fine video. Grazie. 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 Grazie.